Ehi, Alex Antonov, casa degli specchi nel posto, Mr. Brown, Shock and Slab, Freestyle 2011, state attenzione, vai! Ehi, Alex Antonov, casa degli specchi nel posto, Mr. DJ! Ehi, Alex Antonov, casa degli specchi nel posto, Mr. DJ! Ehi, Alex Antonov, casa degli specchi nel posto, Mr. Brown, casa degli specchi nel posto, Mr. Brown, casa degli specchi nel posto, Mr. Brown. Oh, yeah!